Grazie a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra veterinaria dell'auto, con la concessionaria Alfa Romeo, Fratelli Cozzi, in questo ambiente oggi spettacolare. La parola subito a Mariano e vi ricordo che siamo in Viale Tosella numero 46 a Legnano. A te. Grazie Rosi, vi saluto oggi da un posto magico, il Museo Storico della Fratelli Cozzi Alfa Romeo di Legnano. Qui c'è un cammino storico da visitare, sono più di 50 pezzi che raccontano tutta la storia automobilistica italiana dagli anni 50-60 a oggi. Potete visitare gratuitamente il museo iscrivendovi sul sito museofratellicozzi.it, ricordate la prossima giornata dedicata è il 21 di maggio, importante. Dopo aver parlato del Museo Storico della Fratelli Cozzi, presentiamo tutta la gamma nuova Modellier 2016 di Giulietta. Giulietta è stata rinnovata sia nelle motorizzazioni, soprattutto nei cambi nuovi TCT e soprattutto nell'offerta. Ricordiamo l'offerta di aprile, Giulietta è tua, con rate da 185 euro mensili. Venite a trovarci quindi, abbiamo la possibilità di farvi provare le nuove Giulietta e personalizzare un preventivo su misura per voi. Grazie. Buongiorno a tutti da Matteo, oggi parliamo anche di Jeep Renegade. Presso il nostro parco veicoli abbiamo un vasto assortimento di vetture a chilometro zero, in vari colori allestimenti. Pertanto vi invito a venire presso la nostra concessionaria o a visitare il sito www.fratellicozzi.it dove troverete tutta la vasta scelta di Renegade chilometro zero. Se non doveste eventualmente trovare il colore o l'allestimento che vi piace, ordiniamo la vostra chilometro zero come la volete voi su misura. Ad esempio questa bellissima Renegade 2000 Multijet 140 CV, 4 ruote motrici colore nero carbon in un allestimento particolare, l'Active Drive Night Eagle. Gli optional di questa vettura per esempio sono i Bluetooth, il cerchio in lega, il cruise control, i comandi al volante, fendi nebbia, il navigatore, il sensore di parcheggio e la trazione integrale. Chiaramente non abbiamo solo Renegade presso il nostro concessionario ma per tutte le altre vetture della gamma Jeep vi invitiamo a venire qui da noi a Legnano in Viale Toselli 46. Ciao a tutti, sono Azzurra. Nel nostro parco veicoli potete trovare un vasto assortimento di veicoli Fiat. Potete trovare una vasta gamma di Fiat Punto, Panda 500, Fremont in diversi colori allestimenti per soddisfare tutte le vostre esigenze e soprattutto a prezzi vantaggiosi. Ad esempio potrete avere una Fiat Punto chilometro zero mille due allestimento street con rate mensile a partire da 90 euro. Vi abbiamo fatto l'esempio della Fiat Punto ma come vi dicevo la super promozione è valida per tutti i veicoli del marchio Fiat. Quindi ad esempio questa Fiat Panda 1002 allestimento pop che è adatta anche per i neopatentati. Scusa Azzurra, ti sei dimenticata qualcosa? Fino adesso che giochi con questo ed ora? No, ti immagini presentare davvero questa Panda? Kung Fu Panda! Da, venite nella nostra concessionaria. Ma non è tutto perché per il mese di aprile la nostra concessionaria Fratelli Cozzi vi riserva una super promozione su tutti i veicoli Fiat. Una super promozione che comprende otto anni di garanzia dalla data di matricolazione. Quindi non perdetevi questa occasione e venite a trovarci perché la promozione è valida solo per il mese di aprile. Ciao a tutti, sono Federico e parliamo ora del prodotto BMW perché come tutti sapete la Fratelli Cozzi non si occupa solo di Alfa Romeo, Fiat, Alfa e Lancia ma anche di BMW e Mini. Abbiamo una vasta gamma di prodotto BMW a partire dalle serie 1, le serie 2 Active Tourer, le serie 2 Grand Tourer, serie 3 Berlina e Touring, serie 5, X3, X5, tutta la gamma BMW. Abbiamo in questo momento delle vetture aziendali con un risparmio direi molto importante fino al 40%, vetture con pacchetti M Sport, quindi una vettura prettamente per la richiesta di un cliente che apprezza il prodotto Sport. Abbiamo delle vetture con allestimenti pacchetti Luxury, quindi una vettura molto più elegante che hanno delle dotazioni di serie molto molto importanti. Tutte queste vetture sono a disposizione, sono vetture dell'anno 2015, qualche vettura dell'anno 2016, quindi molto molto fresche e molto poco chilometrate. Gli accessori sono importanti, quindi venite a trovarci perché risparmiate veramente molto, abbiamo prodotti finanziari da poter aggiungere, prodotti assicurativi e estensioni di garanzia. Le gamme colori sono notevoli e vi aspettiamo tutti presso la nostra concessionaria. Ciao a tutti, un ben ritrovati anche da Monica. Vi aspetto all'interno del Salone Fratelli Cozzi, dove oltre a tutte le vetture già presentate dai colleghi, abbiamo da proporvi un vastissimo assortimento di mini in diversi allestimenti, motorizzazioni. Ricordate che per tutto il mese di aprile su tutte le vetture aziendali, cabrio, sono a vostra disposizione vantaggiosissime offerte. Oltre a questo abbiamo delle proposte eccezionali, come ad esempio mini Cooper D Clubman, corrate a partire da 277 euro. Non perdete queste offerte eccezionali che saranno a vostra completa disposizione per tutto il mese di aprile. Vi aspettiamo. Queste sono alcune delle mini che potete trovare all'interno dei nostri saloni. Vi ricordo che possiamo allestire la vostra vettura in base alle vostre esigenze, quindi personalizzandola, ad esempio con il Mini Connect GoPro o l'head-up display. Vi ricordo che oltre a tutte le vetture che stiamo vedendo oggi, potrete visionare tutte le automobili disponibili all'interno della concessionaria Fratelli Cozzi, visitando il nostro sito che è www.fratellicozzi.it. Troverete in maniera dettagliata le immagini di qualunque vettura vi possa interessare. E oltre a questo vi ricordo che è sempre disponibile telefonare per fissare un appuntamento o per un test drive. Saremo sicuramente a vostra disposizione per farvi provare a pieno, su strada, le sensazioni della vettura che voi desiderate. Prima di salutarvi vi ricordo che la concessionaria Fratelli Cozzi si trova a Legnano in Viale Toselli 46. Autostrada Milano-Laghi, uscita Legnano. Vi aspetto, un ciao a tutti. Buonasera a tutti, sono Ivano, vi parlo ora degli ultimi arrivi in Fratelli Cozzi. Vi presento ora queste bellissime BMW 114, auto adatte anche alla guida per neopatentati, davvero molto accessoriate. Abbiamo sia il gamma vecchio che il gamma nuovo con prezzi davvero interessanti, tre o cinque porte. È tempo di primavera e è tempo anche di cabrio. Abbiamo una vasta gamma anche su BMW. Parliamo di serie 2, come in questo caso, una bellissima 220 cabrio M Sport dotata di qualsiasi accessorio, ma abbiamo anche delle Z4. Tantissima la scelta su BMW e Mini. Abbiamo anche un vasto assortimento, per esempio per questo mese, di serie 5, sia Touring che Berlina. O serie 3, sia Touring che Berlina. M Sport, pacchetto Luxury. Non solo BMW e Mini, Fratelli Cozzi è anche centro dell'usato multimarca. Presentiamo ora, per esempio, questa bellissima Audi A5. Vi sfido veramente a trovare un'auto così bella e ad un prezzo così competitivo. Io, quando l'ho vista, me ne sono davvero innamorato. Abbiamo appena visto un Audi A5 Coupé, bellissima, ma tante sono le offerte su Audi. Abbiamo Q3 a disposizione, dell'Audi A3. Tantissimo anche, se uno vuole rimanere sulle tedesche, Volkswagen. Abbiamo a disposizione un vasto assortimento, selezionato tra Tiguan, Golf, ma anche delle Polo. Abbiamo in arrivo anche delle bellissime Polo, sia benzina che diesel. Rimanendo in casa, Audi e Volkswagen. Come non citare anche Skoda, un marchio che fa parte sempre della stessa famiglia. Su queste abbiamo dei prezzi davvero convenienti, su dell'Octavia, Berlina e Station Wagon. Abbiamo anche delle Rapid Spaceback, la guida per neopatentati. E delle Skoda Yeti, un'auto molto in uso in questo momento. Poco fa Matteo vi ha parlato della possibilità anche di prelevare delle vetture chilometro zero personalizzate come la volete. Rimanendo in casa Jeep, oltre a Renegade e a Wrangler, abbiamo anche a disposizione dei Cherokee e anche Grand Cherokee. Sia modello nuovo che modello precedente. Mariano vi ha parlato della nuova Alfa Romeo Giulietta Modellier 2016. Appunto per questo, altissimi gli sconti sugli aziendali precedente modello. In questo caso però vi voglio far vedere una vettura molto particolare, che è questa Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde. Auto che è introvabile, è veramente un giocattolo da guidare. Cambio automatico TCT e particolarità, interni sportivi Sabelt. Davvero introvabili. Un optional di 2000 euro, incluso nel prezzo. Anche sul gruppo DS e Citroen abbiamo dei prezzi davvero molto molto convenienti. Per esempio questa bellissima auto familiare, una Citroen C4 Picasso diesel 2015 con soli 8.000 km. Anche per il gruppo Opel, ampissima gamma e vasta scelta in Fratelli Cozzi. Vi presento ora questa vettura adatta alla guida per neopatentati, davvero molto molto bella, col tetto bicolor. Questa è una Opel Corsa adatta alla guida per neopatentati, ma le occasioni sono in tantissime. Abbiamo Opel Astra, Opel Meriva, abbiamo Opel Mocca. Davvero l'imbarazzo della scelta. Ed eccoci ora nel parco delle occasioni esterno, proprio adecente alla concessionaria, dove potete trovare veramente un'ampissima disponibilità, come potete vedere da questo stock di Fiat 500. L'offerta però del mese è su Renault Kangoo. Abbiamo ritirato un consistente parco veicoli, vetture a cinque porte, molto molto confortevoli e molto molto pratiche per la famiglia. Vi invito quindi a scoprirlo e con questo vi saluto. Ci vediamo quindi in concessionaria in Viale Pietratoselli 46 a Legnano oppure contattateci allo 0331 42 79 39 o mandate pure una mail a contattochiaccioafratellicozzi.it. A presto! Buongiorno, sono Matteo Naldini e sono qui per presentarvi una grossa novità per quello che riguarda il concessionario Fratelli Cozzi di Legnano. Nobis Assicurazioni, una società facente parte del gruppo Intergea nata nel 2008 a seguito di un'iniziativa legata al mondo automotive. Una società in grande sviluppo e in grande ascesa operante per quello che riguarda il settore assicurativo del ramo danni. La società propone un modello di business fortemente orientato alle richieste e bisogni del cliente nel segno di flessibilità operativa e personalizzazione del servizio. Nobis cerca le migliori soluzioni per rispondere alle specifiche esigenze del cliente tramite la centralità del fattore umano. Per questo sarò presente all'interno del punto vendita negli orari commerciali per potervi fornire una consulenza personalizzata per quello che riguarda il mondo assicurativo e potervi dare un'assistenza legata proprio alle assicurazioni del mondo legata alla vostra auto. E da oggi una grande novità, la possibilità di sottoscrivere la responsabilità civile per la circolazione delle vostre auto direttamente all'interno del nostro concessionario.